E' stato un viaggio nel tempo e nello spazio quello che la compagnia teatrale e archeosofica ha fatto compiere agli spettatori con lo spettacolo nel vortice del tempo in scena al mecenate di Arezzo. Attraverso le dodici scene che compongono lo spettacolo e che rappresentano altrettanti piccoli racconti hanno preso vita tanti personaggi legati tra loro da una sottile linea temporale. Questo spettacolo è nato durante il periodo del lockdown, quello tremendo che abbiamo vissuto e insieme a un gruppo abbastanza numeroso di ragazzi ci siamo messi a lavorare su varie idee. E' uno spettacolo che si compone di dodici scene dove sfioriamo dodici temi che sarebbero molto importanti come, non lo so, la giustizia, la sete di libertà, temi abbastanza sociali ma sfiorati leggermente perché a teatro si viene per divertirsi. Ad accompagnare la successione di scene, tanta musica e canzoni originali scritte appositamente per questo spettacolo ed interpretate dal vivo da un cast di 30 giovani artisti, musicisti e cantanti.